Attende l'odine, le trisere, qui a peccati muschili. A te sul nere, ogni un redemto, auguros nostro, stupevamus rentes. Abbiamo iniziato con il mercoledì delle ceneri, il sacro tempo del quaresima, tempo di conversione, di grazia, tempo in cui ciascuno di noi è chiamato a rivedere il proprio cuore, la propria coscienza, a mettersi davanti a Cristo, il Crucifisso e il Risorto e riconoscere la grazia di Dio, la misericordia di Dio che vuole veramente avvolgere il nostro essere, la nostra vita e dare una nuova linfa, un nuovo dinamismo, un dinamismo di salvezza. E in questa prima domenica di quaresima il Signore, attraverso la Sua parola, ci illumina con la certezza che Lui è sempre accanto a noi, sempre ci sostiene, sempre ci accompagna con la Sua grazia e il Suo perdono. Non è solamente però il Suo un accompagnamento personale, ma proprio la presenza. Dio è con noi, Dio è al fianco a noi, come popolo ma anche come persone. E di questo ne ha fatto esperienza il popolo di Israele, proprio nella prima lettura di questa, prima domenica di quaresima, capitolo 26 del libro del Deuteronomio, si legge l'esperienza del popolo di Israele che riconosce la sua storia, nella sua storia la presenza di Dio. E per questo il suo credo è un credo storico, perché Dio si fa storia, pur essendo il Dio altissimo che i geni e i geni non possono contenere. E allora il popolo di Israele si rende conto che è una sua storia, una storia d'amore con il suo Dio che nasce, già dai Patriarchi. Mio padre era un amico errante. Così inizia il credo di Israele. Ma questa esperienza del popolo si concretizza poi attraverso anche altre fasi della storia. la fase dolorosa e gloriosa dell'Esodo e poi la tesa e la promessa della terra dove scorre latte e miele. E allora il popolo di Dio, il popolo di Israele, si riconosce in questi eventi come popolo, un popolo che viene formato e performato veramente dalla grazia del Signore che è la presenza, che è la presenza di Dio. Se questo è vero per l'antico popolo di Israele, questo è anche vero per la Chiesa, che fa esperienza del suo Signore risorto e nella gloria. Per cui San Paolo dice che è necessario credere che Gesù è il Signore e che lui è risorto dei morti. E poi allo stesso tempo bisogna amarlo, amare Dio. Quindi amare Dio con tutto il cuore perché Dio lo ha risuscitato dai morti. Allora la risurrezione è il credo della Chiesa. Noi crediamo fermamente che Gesù è il risorto dei morti e con la sua risurrezione siamo risorti anche noi dalla nostra morte spirituale che è il peccato e dalle conseguenze del peccato che sono la paura, l'angoscia, i residui del male, quella tendenza verso il male, verso l'egoismo, verso l'egolatria che tante volte attanaglia il cuore di ogni uomo e che si manifesta in tanti deliri di onnipotenza che sono l'esplicitazione di quello che è il peccato originale ma che è anche il peccato di ogni uomo e di ogni donna. E allora vogliamo veramente riconoscere come è Gesù vicino a noi. Gesù si rende presente soprattutto nel momento della prova, nel momento della tentazione perché è proprio lì che il tentatore, nel momento della tentazione, qualsiasi sia la forma e la modalità della tentazione ci vuole far credere che noi possiamo salvarci solamente se saliamo sul pinacolo del Tempio, cioè se mettiamo noi al centro di tutto la nostra idea di Dio, il nostro io, la nostra gloria assolutamente umana. Ma se invece allontaniamo il tentatore dicendo a lui, mediante la parola di Dio, non tentare, non tentare, un figlio di Dio, non tentare, colui che è pieno della grazia. E allora vorremmo veramente in questo tempo di quaresima renderci conto delle prove, ma anche delle tentazioni che viviamo ogni giorno e con l'aiuto di Dio allontanarle. Nel momento della prova è necessario invocare il Signore, è necessario invocare la parola di Dio perché la parola di Dio è capace di respingere ogni male e di donarci la forza della grazia. Così sperimenteremo quella libertà soggettiva che Cristo ci ha conquistato una volta per sempre mediante il suo mistero di morte e di risurrezione, ma di cui noi facciamo esperienza quando con la sua grazia riusciamo a respingere il male e a fare il bene.